L'ASL Brindisi entra negli istituti scolastici per promuovere il progetto Il Dono a scuola realizzato con l'associazione Lo Sportello di Mattia, dedicata a Mattia Tagliente, 24 anni morto nel 2013 dopo un incidente stradale che ha donato i suoi organi. Nell'istituto Morvillo Falcone l'avvio dell'iniziativa che coinvolge genitori e studenti del quarto e quinto anno degli istituti comprensivi di Brindisi e provincia ed è stata organizzata in collaborazione con il centro regionale Trapianti. Su un tema sul quale si parla troppo poco, sul quale c'è molto spesso ignoranza e questa ignoranza dobbiamo superarla, dobbiamo superare dei pregiudizi che sono legati alla donazione degli organi e che molto spesso ci inducono a non dare una risposta affermativa quando ci viene posta la domanda tu vuoi donare gli organi molto spesso proprio perché non sappiamo cosa ci sta alle spalle, siamo indotti a dare una risposta negativa. Un'importante iniziativa che abbiamo accolto favorevolmente è questo invito della ASL di divulgare nelle scuole il messaggio, la cultura del dono. Purtroppo quello della donazione dei trapianti è ancora un argomento poco conosciuto in cui ci sono poche informazioni o informazioni distorte quindi il nostro intento attraverso questo progetto è quello di portare nelle scuole questi incontri di tipo formativo, informativo volti ad incentivare, a diffondere, a sensibilizzare la cultura del dono nei nostri studenti, il dono inteso come principale strumento di inclusione sociale. Oggi è una giornata importante di formazione, informazione e sensibilizzazione delle nuove generazioni alla cultura della donazione. I ragazzi devono sapere che donare non è un semplice gesto di generosità ma è un atto che moltiplica la vita e questo è fondamentale.